In questo video parleremo del denaro. Il denaro è importante anche questo nell'attrazione perché rientra nella famosa triade look money status, quindi il denaro è uno dei tre capisaldi dell'attrazione dal punto di vista evoluzionistico, perché nell'attrazione contano lo stato estetico, il look, i soldi e poi lo status sociale. D'altronde attualmente il denaro che influisce nel determinare l'attrazione in passato non era il denaro, perché il denaro è stato introdotto soltanto recentemente in tutta quella che è la storia dell'umanità, ma è stato introdotto con la civilizzazione, però per i nostri antenati non rendeva attraente un uomo che aveva il denaro perché il denaro non esisteva, ma comunque l'equivalente del denaro erano appunto le risorse disponibili di quell'uomo. Quanto cibo per esempio riusciva a raccogliere con una battuta di caccia, questo era per i cacciatori raccoglitori, quindi per i nostri antenati, diciamo il denaro, le risorse appunto, questo si intende se vogliamo. Ecco perché poi modernamente una donna tende a preferire maggiormente un uomo che ovviamente ha più soldi. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace e iscriviti al canale.